Vista la grande adesione raccolta dalle prime tappe dell'iniziativa vaccini in spiaggia promossa dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani si vaccinano, è stato ampliato il calendario di fermate del camper allestito per le somministrazioni del siano anticovid nelle località balneari della costa. E così alle prime sei giornate se ne sono aggiunte altre 12, dal 13 al 24 agosto, a Piombino, San Vincenzo, Castiglioncello, Marina di Cecina, Livorno, Tirregna, Marina di Pisa, Cinquare, Marina di Massa, Lido di Camaiore, Forte de Marmi e Viareggio. Fra chi sceglie di vaccinarsi in spiaggia moltissimi giovani. È bellissimo vedere tante ragazze e ragazzi qui presenti oggi al camper a Fonte Blanda, a Talamone. Questa speranza ci dà in qualche modo il senso della ripartenza della scuola in sicurezza. Non possiamo permetterci di ripartire in presenza a settembre e chiudere ad ottobre per nuovi contagi come lo scorso anno. L'unico modo per evitare questo rischio è vaccinarsi, quindi grazie alle tante ragazze e ai tanti ragazzi, ai loro genitori che stanno facendo questa scelta di responsabilità. Tutte le persone di età compresa fra i 12 e i 59 anni possono prenotare la loro prima dose di vaccino in spiaggia sul portale regionale, ma si viene vaccinati anche senza prenotazione se ci sono dosi disponibili. E anche il generale Figliuolo ha deciso di complimentarsi per questa iniziativa, annunciando che dopo agosto darà la possibilità a tutti i giovani di vaccinarsi senza prenotazione. La Toscana ha anticipato l'Italia facendolo con questo camper, oggi a Fonteblanda, domani saremo a Marina di Grosseto, poi Castiglione della Pescaia, le Valle Etrusche, il Livornese, il Pisano, le zone apuane e poi chiuderemo con la Versila il 24 agosto a Viareggio. Il sero anticovid somministrato sul camper di vaccino in spiaggia è per tutti il Pfizer.